La torta con la frase tutto l'universo obbedisce all'amore e la famiglia al completo per il compleanno di Clizia in Corvaia. C'è anche Eleonora Giorgi presente per l'occasione. Il video sui social mostra la famiglia alle prese con i festeggiamenti, tra risate e candeline spente. È un compleanno meraviglioso per me. I miei figli, la mia famiglia tutto ciò di cui ho bisogno è accanto a me. Grazie a voi per gli auguri e il vostro amore scrive Clizia in Corvaia, sotto il post che la immortala con la famiglia, Paolo Ciavarro e i bambini. Anche Eleonora Giorgi non ha voluto perdersi questo momento. Più si va avanti e più è difficile, soprattutto da un punto di vista fisico. Lei è una guerriera e una combattente, diceva Paolo averissimo, e non molla. Non abbiamo mai passato tanto tempo insieme. Siamo riusciti a trasformare la tragedia in una cosa bellissima. Clizia commentava con pari affetto. Sua madre per me è un'amica, una complice e una mamma. In questo momento difficile è stata lei a darci la forza in questi mesi. Un momento toccante per i due coniugi, che se sono sposati dove si sono innamorati la mamma e il papà di Paolo a Forte dei Marmi, che commenta, abbiamo chiuso il cerchio. Stiamo lottando con tutte le forze, aveva detto Giorgia Verissimo raccontando la sua battaglia contro il tumore al pancreas. Le terapie sono dure, ma la chemio ha permesso di rimuovere il tumore principale. Tuttavia il cancro al pancreas è difficile da sconfiggere.